e ciao ragazzi bentornati in un nuovo video sfide creazioni rosa di mister pescatori innanzitutto vi volevo ringraziare se siamo arrivati a 200 iscritti in questo video vi mostrerò come completare la sfida creazioni rosa diabolico ossia la terza del gruppo campionati e nazionalità missi come sempre vi invito a iscrivervi al canale e lasciate un bel vi piace mi piacerebbe anche che dite la vostra lasciando un commento in ogni video nei video sfide creazioni rosa e lasciate la vostra opinione quindi andiamo a vedere questa terza sfida diabolico perciò farò come sempre vi dico il nome di ogni giocatore in modo tale e il prezzo quindi i requisiti prima di tutto esattamente 6 nazionalità in rosa 6 campionati massimo 3 giocatori della stessa nazione 3 giocatori dello stesso campionato valutazione squadra 81 e l'intesa deve essere 90 quindi ho acquistato questo portiere del bayern leverkusen finlandese a 3 chi a 1400 crediti cercate di fare l'asta da diciamo da per non perdere due trecento crediti poi abbiamo il difensore centrale bayern meta che l'ho acquistato per mille per mille cento e acquistate entrambi infatti per far salire crescere l'intesa invece per quanto riguarda il difensore centrale a sinistra mustafi dell'arsenal l'ho acquistato per 850 mentre il terzino del psv indovin tedesco max l'ho acquistato per mille e trecento invece per quanto riguarda il terzino mario fernandez fernandez del csk di mosca l'ho acquistato per 2000 crediti il russo poi abbiamo come trequartista miranciuk anche lui russo infatti abbiamo fatto l'abbina e l'ho acquistato per mille e 500 qui ho messo diciamo questi tre giocatori dell'atalanta per far crescere l'intesa a centrocampi abbiamo derun quello acquistato per mille e 6 invece zapata per 2000 2008 per quanto riguarda i tre spagnoli chiaramente i ramendi l'ho acquistato per mille crediti e danny garcia per 2007 e raul danny garcia si mi sono confuso danny e raul e raul garcia per 750 qui non ci vuole la fedeltà infatti ho acquistato tutti e non ho avuto il bisogno di giocare le dieci partite per far crescere la fedeltà di qualche giocatore perciò non ho avuto il bisogno e quindi andiamo a a inviare la rosa e spacchettare il pacchetto scambia una rosa di con sei nazionalità e sei campionati va bene ottieni premi andiamo sul negozio il più grande pacchetto disponibile con 30 si 30 oggetti contiene giocatori consumabili tutti oro virgola di cui 18 rari punto giocatore buono casemiro casemiro 89 eccellente raghi dicci pure ok io all'incirca ho speso sui 12 12 mila crediti spero che aspetta volevo mostrare anche gli altri giocatori lozzano darmian schlager diego martinez vabbè poi qua tutti consumabili contratti cambio ruolo scudo contratti giocatori quindi spero che questo video sfida creazione rosa vi sia d'aiuto e lasciate un bel vi piace e ci vediamo al prossimo video